Nella sala consigliare di Terra Nuova Bracciolini un'esposizione di tanti progetti come è stato visto e reinventato e ridisegnato il parco pubblico attrezzato da questi 22 architetti non solo locali ma di tutta Italia che hanno risposto a questo concorso. Dopo la premiazione dei primi tre la mostra resterà aperta comunque fino a sabato 14 settembre. Per ridisegnare il nostro parco pubblico attrezzato che è apprezzatissimo da tutta la vallata e da questi lavori e dalle lavori premiati abbiamo anche avuto la possibilità di utilizzarli per fare un progetto di lunga lena per la ristrutturazione del nostro parco pubblico attrezzato anche se purtroppo il patto di stabilità ci obbligherà a farlo lentamente, molto più lentamente di quello che avevamo previsto. E siamo alla fase della premiazione di questo concorso dei idee. 22 progetti che sono arrivati da tanti studi di architettura del nostro territorio e oltre. Bellissimi, sono bellissimi proprio da vedere anche per coloro che sono un po' profani come me nel vedere i disegni, ecco questi con i rendering ci danno bene l'idea di come potrà avvenire il parco pubblico. Come avete scelto il primo, il secondo, il terzo? Il criterio era appunto quello che rispondesse alle esigenze di questo parco che come si sa ha un sacco di funzioni e i progetti che avevano risposto in maniera più esaustiva alle esigenze, al progetto di questo spazio abbiamo appunto dato più punteggi e è venuto fuori i vincitori e tre menzionati che si sono distinti oltre che per la soluzione progettuale anche per l'originalità, per altri particolari. Ed ecco gli architetti vincitori di questo concorso di idee, Agnoletti, Vecci e Tellini. Abbiamo organizzato sentendoci via Skype e coordinandoci nei tempi di ritaglio lavorativo diciamo. Qual è la particolarità di questo progetto e perché secondo voi ha vinto? Credo che la cosa che sia risultata vincente è il tentativo di ricuscire il tessuto esistente cercando di far diventare questo parco un punto di socializzazione, rafforzare la funzione sociale organizzando le funzioni nel modo migliore, realizzando anche un sistema di camminata lungo il fiume, valorizzando quello che c'era, cercando di soddisfare il bando e legandosi molto al contesto. Le richieste dell'amministrazione sono appunto quelle di inserire alcune nuove funzioni e di in qualche modo razionalizzare, spostare e ripensare quello che c'è. Noi abbiamo tentato di fare questo andando a utilizzare quest'area come una sorta di hub, di in qualche modo di collegamento tra tutte le varie parti del centro storico. Credo che sia stato questo alla fine che ci ha visto premiati perché probabilmente diciamo è un buon progetto per Teranova oltre ad essere un parco anche interessante.